Carissimi amiche, carissimi amici, ancora buongiorno dal vostro caro giocherellone che riprende oggi a giocare a Minecraft, riprende a giocare a Minecraft e vediamo quindi insieme, vediamo quindi insieme che cosa abbiamo qui vediamo, vediamo ragazzi, perché? Perché sono momenti sicuramente questi qua in Minecraft molto molto particolari, andiamo avanti, qui sopra stavamo facendo, praticamente stavamo esplorando questa parte qua, vediamo un pochettino perché è vero che fa caldo però noi dobbiamo continuare nella nostra incredibile, ovviamente live, vediamo un pochettino da questa parte qua, vediamo, vediamo, ma soprattutto volevo vedere una cosa volevo vedere una cosa, ma se io in questo momento, in questo momento voglio vedere un attimo una cosa, perché sì è vero che sto in live, però, però, però volevo vedere, vedere una cosa una cosa molto particolare, perché, 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 perché vediamo se riesco a vedere, allora, ecco qua, perfetto andiamo a vedere da questa qua, ok, connessione perfetta di qua e volevo, volevo anche, diciamo, fare, ecco qua, vedere, direi, 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 perfetto, ok, 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 va bene, va bene, va bene, volevo anche fare una cosa particolare, adesso vi faccio vedere, poi lì può fare una cosa, allora, impostazione dello streaming, allora, perfetto, poi vogliamo modificare questa cosa qua, ok perfetto analisi di spettacolo del shopping attività degli spettatori dovremmo mettere il messaggino messaggi principali chat live finanziere tutti i messaggi sono visibili perfetto ok 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 andiamo indietro voglio vedere un attimo una cosa vediamo un pochettino perfetto eccolo qua eccolo qua Ivan ecco qua sei troppo fiscale sei troppo fiscale carissimo Ivan dammi qualche minuto di tempo Ivan dammi qualche minuti ora la metti per favore che cosa la live la skin e non riesco a metterla Ivan devo un attimo capire che cosa mi hai mandato fammi capire fammi giocare Ivan non ti preoccupare poi se vuoi facciamo partire un bel progetto insieme potresti diventare pensa che bello aspetta aspetta devo capire come metterle però ti voglio dire una cosa ti faccio questa proposta visto che ti piace tanto Minecraft e a me piace anche a me tanto Minecraft potremmo far partire o viene un attimo su DS aspetta Ivan non ti preoccupare io ti faccio ti dico questa cosa ho capito che mi insegni e io ti ringrazio io ti ringrazio carissimo Ivan però visto che sto streamando non vorrei diciamo adesso annoiare ovviamente gli spettatori che vedono ovviamente la live quindi che cosa voglio fare pensa un pochettino io adesso sono puntuale e lo so che sei puntuale ma fai bene fai benissimo fai benissimo Ivan a essere puntuale non fai bene fai benissimo ecco qua però 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 io ho un altro progetto pensa un pochettino e pensa e adesso te lo dico Ivan qual è il mio progettino sai qual è il mio progettino visto che vuoi fare il maestro di Minecraft cosa che devo dirti mi stuzzicano un poco mi stuzzicano un poco perché perché secondo me esce fuori un bel progetto secondo me in mio parere personale possiamo fare lezioni di Minecraft col giocherellone e con Ivan che dici mangia ah si mangia grazie Ivan Ivan vedete ragazzi è difficile trovare un amico come Ivan vedi vedi mangio su pezze di panna possiamo far partire un progetto senti un pochettino se ti piace questo progetto lezioni di Minecraft con Ivan e il giocherellone hai capito bene che dici questo progetto ti piace secondo me ti piace un progetto del genere un progetto simpatico un progetto carino dove dove si possono fare praticamente queste cose qua che dici e possiamo insegnare alle persone a giocare quindi tu farai il maestro l'unica persona che mi fai i complimenti no neve chi è che è stato che non ti fai i complimenti le persone che non ti fanno i complimenti non le considerare tu ti devi far sempre apprezzare devi sempre frequentare le persone che ti elogiano non devi frequentare le persone che non ti elogiano se vuoi facciamo partire un progetto lezioni di Minecraft con Ivan e il giocherellone che dice questa cosa qua e diventerai ecco il fan del gott ragazzi è arrivato Michele è arrivato Michele ragazzi salutiamo il grande Michele vabbè perché devo annoiare devo annoiare no mica annoi la live chi è che annoia la live non annoi la live carissimo Ivan non annoi assolutamente la live anzi anzi ti devono ringraziare perché tu insegni loro praticamente a giocare a Minecraft carissimo carissimo Ivan quindi se sono su Discord ma no io ho un canale su Discord ho un canale su Discord fatto proprio per voi quindi pensa un pochettino puoi benissimo andare lì sopra e ci sono tanti giocatori di Minecraft ciao alla chat di Twitch ecco qua il grande il grande Michelino il grande Michelino che in realtà forse in questo caso potrebbe anche evitare forse di venire su Twitch perché sto facendo molti streaming da qua tu dici perché stai facendo da qua perché purtroppo è successo una brutta cosa nel senso che il telefono mi si è surriscaldato e non ho potuto più diciamo streamare allora entra in vocale caro Ivan cioè entrerò in vocale ho cercato di collegarlo ma non me lo fa collegare che devo fare? dimmelo tu Ivan che devo fare? bella Michelino ecco qua il mitico Ivan ovviamente Michelino vedi che subito subito Ivan fa amicizia con tutti quanti quindi chi è che ti ha detto che non ti ha apprezzato non ha capito il valore che avevi carissimo Ivan ecco qua prendiamoci ovviamente tutti questi elementi qui sopra e vediamo che cosa fare andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti mettiamo il piccone da questa parte qua non è il telefono non è il telefono io ho il telefono e ho il telefono però la problematica la problematica è che mi si è surriscaldato mi si è surriscaldato il telefono vedete ragazzi andiamo a pigliare questi oggetti andiamo a fare questa piattaforma praticamente qui sopra in modo tale da creare la nostra grande base vedete perfetto il fan del got dice dice eccomi qua eccomi qua sono io l'isola di Pasqua pensate un pochettino Michelin Ivan prendi una pezza e dove la prendi io sta pezza? mettici il ghiaccio sotto a uno strato il ghiaccio dove la piglio sta pezza? e dove la piglio sta pezza? guarda guarda guardalo l'hai visto? l'hai visto? un creeper vedi? ma il creeper riesce a stare anche alla luce a questo punto questo questo mi mi viene da dire quindi mi viene da dire che anche il creeper riesce a stare a luce non si surriscaldano la pubblicità e lo so ma o ti abboni Ivan oppure ti fai a Amazon Prime e non vedi le pubblicità pensa un pochettino purtroppo le pubblicità sono necessarie alla piattaforma per poter esistere se non ci fossero le pubblicità non esisterebbe la piattaforma di Twitch lo sai questa cosa qua e camma fa e camma fa e andiamo ovviamente a questa parte qua e vediamo aspetta aspetta ma si rompe il telefono se fai così come si rompe? come si rompe? quale telefono caro Michelino? quale Michele? ecco qua penso un pochettino io sto trasmettendo da ti faccio vedere poi dopo come trasmetto quindi non dire queste cose Michele Michele non ti preoccupare non succede niente praticamente su questa cosa qua mettici il ghiaccio ah il ghiaccio per il telefono eh lo so il problema ho capito il fatto che il telefono si surriscalda purtroppo non funziona così anzi potresti danneggiare fortemente la batteria lo sai questo perché la batteria può perdere elettroni praticamente quindi per questa cosa qua è un vecchio metodo che sicuramente in più persone diciamo hanno consigliato però in realtà non funziona proprio così Ivan quindi è una situazione purtroppo quando si riscalda il telefono l'unica cosa da fare è sicuramente abbassare la temperatura in una maniera normale è purtroppo è così allora ragazzi qui al fine di non distruggerci ovviamente vedete un pochettino da questa parte qua andiamo ovviamente a cercare di 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 farci questo passaggio in modo tale da creare praticamente vedete una parte qui sopra nella quale possiamo ovviamente andare anche a scendere ma vi faccio vedere che cosa faccio allora qui ci sono rispondi ora rispondo ora ma c'è un aggeggio per non far riscaldare il televisore e la ventola ho capito ho capito la ventola ma poi senti la ventola senti quindi preferisco fare delle pause o andare addirittura in multi streaming carissimo Michele carissimo Michelino ecco qua andiamo davanti a questa parte qua ragazzi e vediamo quindi cosa fare di qua posso passare credo di sì quindi potremmo qui anche creare un'altra secondo me base praticamente quindi una specie di avamposto quindi andiamo a fare degli avamposti qui che andiamo poi dopo piano piano anche sempre di più allargare non mi ricordo è una ventola è una ventola praticamente che si mette praticamente da queste parti qua si mette da queste parti qua questo ventolù avete visto? io ho visto qualcosa mi è sembrato di vedere un gatto mi è sembrato di vedere un gatto guarda qui qui sopra che cosa troviamo incredibile rame incredibile rame dappertutto ragazzi veramente bello ecco qua e beh fai questa cosa che ti ho detto in giro 10 minuti e lo so però c'è una perdita di elettroni che cosa significa che c'è una perdita di elettroni che praticamente poi dopo il telefono potrebbe smettere di funzionare capito? non mi funziona più il telefono praticamente ti ricordi quando quel ragazzo diceva non mi funziona più il telefono ecco qua è il grande Michele il grande Michele qui abbiamo messo qualcosa ma dobbiamo anche capire ragazzi che cos'altro andare a fare perché io volevo farmi uno scavo che mi portava praticamente a scendere praticamente di cota vedete ragazzi da questa parte qua in modo tale da cercare di farmi questa specie di scalino vedete ragazzi vedete guardate 1,2,3,4,5,6 e andiamo quindi questo è tutto lo scalino e poi qui sotto continua praticamente a scendere vedi un pochettino vedi guarda questa parte qua 1,2,3,4 fai questa cosa che ho detto mi è sembrato vedere un topo il topo lo ne proviamo due secondi su discorda a fare quella cosa alla delle texture e adesso sto giocando Ivan come faccio a giocare come faccio a giocare come faccio a giocare se devo installare le texture Ivan ma lo farò lo farò non ti preoccupare apprezzo questo fatto qua delle texture questo mitico pack che praticamente il grande Ivan ci manda praticamente il pacchettone il pacchettone attenzione a questa parte qua attenzione al pacchettone da questa parte qua che cosa possiamo tendenzialmente andare a fare mio parere personale ora vi faccio vedere mettiamo una torcia una torcia che ci permetterà ovviamente di aiutarci a fare quello che stiamo facendo va bene me ne devo andare ciao giocorino ciao Fander Gotti Ivan dice su vocali Ivan 10.000 euro 10.000 euro di cosa i soldi sono arrivati sono arrivati i soldi mi ricordo che quando una volta lavoravo per un'azienda una volta non pagavano praticamente a un certo punto disse sono arrivati i soldi per pagare i dipendenti pensa un pochettino assurdo assurdi assurdi momenti lo sai cari che ti costa stare su discord ma solo su discord solamente non mi fa collegare l'account non mi fa collegare l'account poi comunque la problematica è anche una questione di connessione come faccio con 28.000 connessioni aperte praticamente carissimo Ivan come faccio a fare tutto questo me lo dici tu ecco qua non posso non posso attuare questo progetto almeno 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 per il momento Ivan ma poi lo attuerò non ti preoccupare il giocarellone attua sempre quello che vuole attuare non ti preoccupare hai mai visto questa cosa qua guarda un pochettino andiamo a bloccare praticamente quest'altra parte vedete 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 guarda guarda ecco qua perfetto andiamo a distruggere vedete eccoci qua l'abbiamo trovato il grande carbone il grande carbone di mamma praticamente vedi un pochettino il carbone della nonna il carbone della vecchia nonna vedi quanto carbone quanto carbone abbiamo trovato quanto carbone mamma mia guarda qui quante gemme ma poi se gemme non ho capito sta cosa qua carissimo carissimo Ivan queste gemme a che cosa realmente servono cosa servono tutte queste gemme praticamente io vado a prendere adesso per esempio queste gemme adesso mi andrò a ricreare sicuramente vedete mi andrò a ricreare sicuramente degli elementi per risalire altrimenti non posso più salire ok perfetto andiamocene quindi a fare a mettere questo elemento qui sopra vedete perfetto ok quindi abbiamo fatto quest'altra parte qua e andiamo a distruggere andiamo a distruggere ancora vedete e quindi e ti regi metti un'email e già mi sono registrato e ti registro e non ci vuole l'arte di Milano carbone per la fornace ma in realtà in realtà io non ho capito una cosa carissimo Ivan ma il carbone praticamente è il miglior modo sicuramente per bruciare però in realtà io a volte quando ho fatto partire quando ho fatto partire la fornace in realtà la fornace lo posso utilizzare anche legno quindi una volta diciamo che anzi a volte ho fatto partire la fornace pensa un pochettino ho fatto partire la fornace con il coso praticamente direttamente con legno lo sai questa cosa qua quindi il carbone per la face no il miglior modo il miglior modo è il carbone il miglior modo è sempre il carbone ecco qua il secchio ah il miglior modo il secchio di lava quindi posso ma il secchio di lava è infinito quel secchio di lava è infinito carissimo carissimo Ivan ecco qua non ho capito scusami il secchio di lava è infinito su Minecraft andiamo avanti ragazzi da questa parte qua intanto oh attenzione perché qui si scende aiuto qui si scende aiuto aiuto e che è sta cosa e che è sta cosa e che è sta cosa e che cos'è una e dove sono arrivato dove sono arrivato ragazzi sono arrivato in un posto strano in un posto strano ecco qua mille secondi di bruciatura secchio di ah mille secondi di bruciatura ora ti faccio un altro esempio carissimo Ivan tu hai detto mille secondi di bruciatura ti trovi su questo piano qua ma lo scopo di Minecraft qual è qual è il vero scopo di Minecraft carissimo Ivan tu che conosci tanto questo gioco tu che adori tanto questo gioco qual è il vero scopo di Minecraft questo vorrei sapere da te tu che lo conosci cioè io devo uccidere il drago solamente oppure no oppure no qual è il nostro scopo praticamente di Minecraft qual è lo scopo di Minecraft fare tutti gli archi ah perfetto un secchio di in carbone e 20 pezzi di carbone faremo tutti fare tutti gli archi facendo ho capito ho capito facendo L quindi devo andare a cercare di fare tutti questi archiment perfetto tra cui anche il passaggio ovviamente il passaggio all'ere praticamente all'ere perfetto e lo faremo lo faremo lo faremo lo faremo facendo clicca L facendo clicco L vediamo ah vita di campi ecco qua praticamente quindi vita di campi migliori amici per sempre domessi con anni ah ecco qua ecco qua quindi vita di campi vita da campi ecco qua il miglior modo ecco qua qui avventura perfetto ah quindi devo fare tutti gli archiment quindi guarda un pappagallo attraverso un cannocino c'era un palloncino ah quindi ecco qua due piccioni con una freccia chi è il pedone ecco qua ho capito il letto dormi in un letto per cambiare il tuo punto di rinascere leggero come cammina sulla neve senza sprofondare ah ho capito strofino una lampada di rave con una ascia per rendere più luminosa quindi queste ammazza che ammazza infliggi 50 qualità di un colpo usando la mazza prova di camera metti i piedi in una camera delle prove e queste sono le epoche praticate fisico quindi ferri del mestiere salto di qualità distrutto della pietra ok 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 vetro ottieni il blocco di ossidiana ah perfetto ottieni dei diamanti ritenta devi un proiettino uno scudo copri i temi di vita ah l'apprendizio incanto non c'è solo tramite un tavolo di incantesimi così ci attiva attraverso un portale per il nether lascia ogni speranza perché dice lascia ogni speranza ho capito quelli gialli clicca il che ti esce alla schermana diverse categorie devi sbloccare ancora il nether e l'end ma quelli gialli sono quelli che hai fatto ho capito grazie grazie Ivan la nostra guida Ivan è la nostra guida praticamente poi faremo la guida la guida in minecraft con Ivan e il gioco del lune pensate un pochettino nel grande progettone il grande progettone su questo canale quindi devo prendere ovviamente tutti questi materiali ma soprattutto devo fare esperienza quindi alla fin fine rimane il fatto che nella vita che minecraft è come la vita vera come quella canzone che avevo fatto ti ricordi Ivan non so se hai ascoltato la mia canzone ma è sul mio canale youtube e c'è la canzone di minecraft hai capito bene quindi c'è questa canzone di minecraft guarda guarda qui dove siamo praticamente ti piace tanto ti piace tanto questo gioco perfetto quindi faremo faremo tutti questi diciamo questi elementi praticamente col caro Ivan vedete ragazzi vedete un pochettino che ci guiderà praticamente secondo le sue grandi conoscenze bravo Ivan Ivan il terribile forse dobbiamo dire o Ivan il maestro di minecraft Ivan forse il maestro eccolo qua guarda un pochettino che abbiamo trovato e queste pietre a che servono se le cose rispetto agli altri le imparo in dieci minuti sei bravo ma soprattutto perché ti piacciono credo queste cose si le impari perché ti piacciono queste cose quindi vediamo un pochettino che cosa fare andiamo ovviamente a prendere a prendere questi altri elementi vedete perfetto andiamo ad aprire quest'altro percorso o non ti permettere che cosa che ho detto questa cosa qua sono i lapisi che servono agli incantesimi questi questi quindi queste pietre azzurre servono per gli incantesimi ho capito non lo sapevo caro Ivan non lo sapevo non lo sapevo poi dopo caso mai ti porto un gioco con gli incantesimi che dici ti piace il gioco con gli incantesimi e ci vorrebbe pure vediamo vediamo un pochettino è arrivato il bombolone è arrivato è arrivato il mitico Darkner ragazzi il grande Darkner è appena arrivato da noi è arrivato da noi ma soprattutto è arrivato forse dallo stesso Ivan quindi mettiamo visto che è arrivato Darkner ecco qua guardate un pochettino il nostro il mitico amico quindi andiamo praticamente da questa parte qua il nostro forse è la nostra nuova persona da istruire ecco qua e a questo punto mi serve ovviamente fare qualche cosa perché ho queste cose che mi servono sì per gli incantesimi però io credo io credo che ovviamente è pieti sto coso come faccio io a pigliare sto coso non posso scambiarlo non posso scambiarlo con niente praticamente forse eccoli qua i grandi ce l'ho fatta ce l'ho fatta hai visto ciao sto aspettando la live di Roblox sono alle 8 inizia la live di Roblox caro Shadow come stai per prima cosa buona giornata ragazzi è arrivato il grande Shadow perché voi sapete che dopo per buttare velocemente fai contro il Q per buttare velocemente grazie Darkner ragazzi grazie che mi guidate praticamente in questa live diventerete i maestri del canale del giocherellone di Minecraft questa è una cosa molto molto bella faremo partire un nuovo progetto voi voi praticamente e me faremo le lezioni di Minecraft è tutto falso Ivan è tutto falso quello che dice torcia nella tenda a mano nella tenda a mano devo mettere la torcia ecco qua contro più via e buttare l'intero stack praticamente l'intero stack è tutto quello che tengo praticamente assurdo davvero mamma mia è tutto falso per buttare velocemente che devo fare sentiamo oh te l'ho detto te l'ho detto te l'ho detto qui che voleva il gioco te l'ho detto che voleva il gioco te l'ho detto te l'avevo detto che voleva il gioco hai visto che voleva il gioco allora ragazzi qui sicuramente dobbiamo mettere io la metterei proprio qui però la torcia perché così vedete ragazzi stiamo a posto ecco qua e possiamo andare di qua per buttare la seconda mano tieni premuto Q tengo premuto Q oh no ecco qua il mio piccone tengo premuto Q per buttare incredibile questi shortcut ragazzi che cosa sono gli shortcut secondo voi che cosa sono questi shortcut oh no ragazzi il piccone di mamma il piccone di mamma ci stiamo veramente divertendo però è bellissimo tieni premuto Q con i blocchi ho visto ho visto ah con i Q per buttare i blocchi praticamente ma in realtà io adesso li vado a posare questi blocchi penso un pochettino quindi vado da questa parte qua ma non mi conviene secondo me andare prima sull'inventario forse mi conviene andare prima sull'inventario praticamente andare sull'inventario e andare a cercare di andare a cercare e questa parte qua non mi piace non mi piace ecco qua vedete ragazzi come faccio a scendere forse 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 di qua forse di qua potrei scendere vediamo un pochettino vedete io potrei scendere di qua forse potrei scendere di qua vediamo attenzione ragazzi che se cadiamo attenzione che se cadiamo alla fine e vedete in realtà però io sapete che cosa posso fare che cosa posso fare posso mettere un blocchetto praticamente qui sotto sentite la musica sentite la musica agiaiaiaiai eh ragazzi qui qui è brutta la situazione perché mi serve creare un blocchettino quindi sto creando mi sto creando ovviamente una scala mi sto creando una scala avete capito bene quindi con i blocchettini vedo con i blocchi provo dai su fai un vanilla con me Ivan che posso venire tutti Ivan che apriamo noi due server Ivan che possono entrare tutti perché vanilla io praticamente ho il coso ho il java ho il java non ho il vanilla ma perché tu hai il vanilla perché hai scelto questo vanilla praticamente perché hai scelto questo attenzione ragazzi che se si scende ho paura vediamo 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 vedi che vedi perché è divertente Minecraft vedi vanilla è il tema il tema ah quindi ma io posso giocare con la mia versione al vanilla o devo scaricare un'altra versione di Minecraft o devo scaricare un'altra versione oh non mi gira più non mi gira più ragazzi oh che sta succedendo oh 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 bruttissima situazione in tempo reale mamma mia bruttissima mamma mia che brutta situazione assurdo non devi scaricare Minecraft Minecraft è molto divertente infatti perché sarebbe un combattimento che stai giocando PvP sarebbe un combattimento un combattimento contro di te dovrei fare un combattimento contro di te dovrei fare non ho capito questa cosa sì è divertente anche perché poi dopo tu non sai che cosa vai a fare però non mi ha ancora detto una cosa Ivan Ivan non mi ha ancora detto una cosa non mi ha ancora detto un grande segreto il grande segreto di Ivan qual è lo scopo di Minecraft Ivan tu lo sai qual è lo scopo di Minecraft qual è lo scopo di Minecraft non devi scaricare nulla Minecraft è molto io creo ora PvP è un altro tema fra poco devo fare la live di Roblox carissimo Ivan quindi non posso diciamo attuare quello che tu stai diciamo progettando ma ti ringrazio poi dopo lo faremo lo faremo progetteremo un bellissimo server dove tu sarai anche tu protagonista penso un pochettino assurdo finire ah tutti gli archivament me l'avevi detto ma io sono l'unico che nella live di youtube shadow non lo so perché in realtà sto facendo sto facendo una cosa particolare come puoi vedere carissimo shadow ma se vuoi vieni da twitch infine tutti gli archivi tutti gli archivi quindi questo è il vero scopo il vero scopo forse della vita forse anche di Minecraft e che cos'è la redstone vediamo se lo sai praticamente la redstone quindi te lo dice stesso lui quindi quello che devi andare a compiere praticamente vabbè ragazzi qui stiamo arrivando proprio a livelli assurdi vedete un pochettino di scavo perché è vero che teniamo sti picconi praticamente di pietra però stiamo proseguendo secondo me molto molto bene si Ivan serve a dei circuiti dei circuiti quindi faremo 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 tutti gli archivament insieme pensate un pochettino con il grande Ivan siete contenti ragazzi di questo progetto Ivan Ivan D Ivan il terribile e crafter la bussola ecco qua certo devo craftare la bussola però dovrete trovare anche dei materiali credo questo è il mio parere personale come la faccio a craftare altrimenti vedremo giocarelloni io ti consiglio un gioco di nome DB Legend è molto bello che cos'è coso praticamente ho capito qual è il DB Legend quello l'ha fatto con con i mostri ciattoloni forse praticamente hai rotto questo terribile chi è terribile ah Ivan il terribile e perché scusami D per cosa sta anticamente D è legato a terribile The Terrible ecco qua Ivan il terribile e quindi perché io pensavo che tu ti chiamassi così carissimo Ivan carissimo Ivan carissimo Ivan perché ti facevi chiamare così perché hai scelto questo nome allora perché The Ivan oppure lì è un nome ah un nome a caso pensavo volesse volesse praticamente identificare una tua un tuo modo un modus operandi perché non mi andava no non ti andava praticamente non volevi mettere praticamente Ivan e guarda qui guarda qui proprio per te guarda che ho trovato che è sto coso dillo tu dillo tu che cos'è dillo tu che cos'è questo coso che è sto coso dillo guarda qua guarda qua te l'avevo detto che lo trovavo te l'avevo detto che lo trovavo tu lo sapevi che lo trovavo no la redstone hai capito bene che devo fare con quello più piccone di ferro certo che cos'è la redstone Ivan che cos'è la redstone dillo tu dillo tu che cos'è spiega spiega agli amici che cos'è la redstone oh 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 non mi dire non mi dire non mi dire che sono caduto no io questa cosa l'ho messa io qua no allora calma forza e coraggio dimmi che tengo gli assi di legno dimmi chioma oh oh sono caduto e mo? aiaiaiai aiaiai 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 e mo? e mo come fai? come fai? ragazzi mi sa che il vostro amico ha finito di fare il vostro amico ha finito di fare perché ragazzi sono caduto e purtroppo mi sono trovato in questa bruttissima situazione situazione e non ce la faccio più a scrivere leggi si rompi con la mano e sale con la mano addirittura a mani nude ma non tengo qualcosa di più forte forse con la zappa praticamente potrei usare la zappa vediamo un pochettino con la zappa rompo a zappate praticamente a zappate da questa parte qua ma no allora aspetta aspetta perché io devo aaaah ecco qua che fesso ma sai perché sono fesso? ti spiego perché sono fesso praticamente ecco qua vedi che faccio il grande intelletto il grande intelletto quindi devo rompere solo questa parte qua vedete rompo questa parte qua vediamo un pochettino con il grande Ivan ecco qua rompi e sali con la mano facendo un pillar infatti adesso vado a fare il pillar vedi un pochettino quindi posso salire ecco qua mi sono salvato ragazzi meno male mi sono salvato ecco qua perfetto andiamo quindi qui sopra andiamo dietro perfetto e andiamo dietro andiamo dietro aaaah vedi che ha fatto questo e quindi ho fatto io un problemino ecco qua mamma mia per poco ragazzi e vabbè potevo potevo veramente distruggermi distruggermi la situazione ragazzi ed erano situazioni particolari erano situazioni particolari la problematica e dove trovare vedete questo è il nostro accampamento pensate un pochettino il nostro grande accampamento da questa parte chi c'è eccolo qua lo zombie ora ti butto qualcosa vedi un pochettino ma dobbiamo stare attenti ragazzi perché abbiamo della terra che io ti vado a buttare del granito ma io ahia ha una freccia in capa freccia ecco qua la freccia della sorellina della sorellina ti ricordi in dragon ball ah sapete che cosa posso fare ma chi è oh no oh no oh no la cosa di mamma la cosa di papà vedi a fare le porte vedi a fare le porte te l'avevo detto te dalle 8 non posso più fino alle 10 e 30 ha lasciato di livello ultra di livello ultra vieni con me vieni vieni con me vieni oh no vieni vieni con me vieni 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 con me salta 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 adela adela dananana ecco qua mo ti uccide non dire queste cose carissimo Ivan cacchio sta anche piovendo ragazzi molto triste lo ripeto un'altra volta ridillo che praticamente di livello ultra chi è il livello che sono i personaggi che era con bolle per trovare di fare un resumo prima di tutto non lo dovrei fare ci sono dei coco ultra estinto a livello ultra gohan a livello ultra praticamente ecco qua vieni 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 con me e io vieni vieni con me e io e mo ti chiudo qui dentro mo ti chiudo qui dentro ma non ti preoccupare perché è vero che uno scudo manco il pane delle creature praticamente il pane delle creature che vado qui a mangiare mangia mangia tutta forza perfetto hai letto ok si ho letto ho letto il tuo amico giocherinone legge sempre tutto mangia stupana mangia del pane ecco qua ecco qua mangia stupana devi fare ctrl più v e che devo fare ctrl più v ctrl più v e che fa ctrl più v che devo fare con ctrl più v ma soprattutto ragazzi avete visto il fatto di aver fatto lo zombolone lo zombolone praticamente lo zombolone brutta situazione cerchiamo di andare cerchiamo di andare a dormire alzati dal letto e mi sono alzato col pane in mano per correre si 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 no ma io faccio ah ctrl più v si 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 allora andiamo ragazzi da questa parte qua andiamo a buttare questi elementi che in realtà in realtà stavo conservando devo dirvi la verità ecco qua perfetto cioè visto che ce l'abbiamo fatta giusto giusto abbiamo avuto abbiamo avuto il cosiddetto mazzettino il mazzettino granito ovviamente qui granito andiamo a metterlo al massimo poi questo lo butteremo tutto sto granito mi saluti l'oro lacustre ciao io a me faccio sto server fai il server dai fatti il server fatti il server intanto ovviamente il tuo amico giocherellone va a fare determinate cose quindi abbiamo la lava abbiamo i lapislazzoli che ci servono per fare la magia abbiamo il nostro bel carbone vedete un pochettino che in realtà voglio andarmi a pigliare da questa parte qua il lingottone della mamma pensa un pochettino che mettiamo praticamente qui sotto questa parte qua andiamo da questa parte qua vedete vedete ragazzi io mammo te lo passo 5 minuti dice Lollo ma ci sarai su Roblox certo ci sarò su Roblox Ivan per la live certo alle ore 8 ma quanto rame ma infatti ma che ci faccio con tutto sto rame che ci faccio con tutto sto rame che devi fare e che devo fare con questo rame e questo è il bello che devo fare con sto rame tu lo sai che devo fare con sto rame allora ragazzi voglio buttare il pietrisco che in realtà è in esubero praticamente per quanto mi riguarda abbiamo trovato anche uno smeraldone che ci faccio oppure con tutto sto granito praticamente quindi vado a buttare questo elemento buttiamo anche quest'altro il basalto liscio interessante ecco qua l'acciarino che troviamo qui dentro vedete importantissimo ovviamente mettere questa zappa posso pure togliere praticamente pietrisco ciao ciao ghiaia diurite forse la diurite mi poteva servire buttiamo andesite lo buttiamo questo lo buttiamo questo lo teniamo perfetto il rame il rame ce lo conserviamo perfetto e ce ne andiamo qui dentro andiamo a vedere esci dal mondo vai su multigiocatore adesso devo prever Luca ma da quando ti presenti da quando ti presenti in faccia mi sono sempre presentato l'olo lacustere in faccia sempre mi sono presentato l'olo l'amico giocherone si è sempre presentato in faccia quindi ho sempre messo la mia faccia sei tu che non venivi sei tu che non venivi sulla live di twitch ti ho sempre detto di venire sulla live di twitch carissimo l'olo e non venivi non venivi perché non venivi ecco qua perché non sei venuto andiamo a piarci intanto il blocchettone il grande blocchettone vedete un pochettino dove possiamo farci un bel piccone di ferro che ci servirà ci servirà ragazzi però dobbiamo stare attenti perchè dobbiamo stare attenti perchè perchè vedete pietisco la tesi a profonda dobbiamo stare attenti perchè perchè ragazzi perchè vabbè questo qua ce lo facciamo di scorta metti questo dai me lo fai quello che ti ho detto caro Ivan non posso perchè sto giocando già questa partita quindi e adesso l'ho vista l'hai vista la faccia hai visto la faccia ecco qua hai visto la grande faccia del tuo amico il giocherillone però hai visto che cosa è successo praticamente qui sopra hai visto che cosa è successo che per scendere sotto hai visto cosa è successo mi sono trovato in una bruttissima situazione vedi mi sono trovato in una bruttissima situazione che è la situazione del mostro quindi devo andare che devo andare a fare sicuramente a mettere a bloccare a bloccare l'entrata e qui ragazzi devo scendere con la spada a bloccare l'entrata dei mostri perchè qui sopra c'erano i mostri da qui sono venuti vedete perchè che cosa ho fatto ho fatto in modo che si creasse un passaggio un passaggio mostruoso quindi che cosa vado a fare e qui ragazzi allora la prima cosa da fare è sicuramente mettere delle fiaccole secondo me quindi delle fiaccoline ecco qua da questa parte qua vedete vedete delle fiaccoline da questa parte qua e qui qui vedete no la cosa di mamma proprio in faccia eh no 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 ancora il vizietto il vizietto non te lo toglie il vizietto non te lo toglie ragazzi e corri corri vediamo un pochettino se riesco a correre ragazzi questo è un viziettino eh questo è un viziettino ma lo zombie non ha paura non ha paura del coso praticamente ti posso metti 5 prove cose diverse sì provo cose diverse però in realtà me ne volevo scappare ragazzi lì sotto c'erano zombie l'altra volta hai anche giocavi con me certo giocavo con te però la problematica la prossima volta gioco con te e mi dai il nome del server vedi vedi che ha paura vedi che ha paura non viene praticamente ma lo zombie quindi ha paura ha paura lo zombie del di me del fuoco si shadow ci sto ecco qua perfetto che ha detto shadow che ha detto shadow non ho capito che ha detto quando la fai la live di minecraft credo domani perché mi devo dedicare poi dopo ad altri giochi e domani domani vogliamo fissare un orario per domani domani mattina se ci sei pensa un pochettino possiamo fare possiamo fare la live pensa un pochettino insieme possiamo fare la live vedete ragazzi andiamo a mangiare sto pane a tutta forza vedete un pochettino ok il pane che mi permette anche di riprendere ovviamente la mia grande vita che poi in realtà per riprendere la vita mi servirebbe anche qualche altra cosa andiamo a posare questo elemento andiamo a posare lo smeraldone lo spazzolone che non sappiamo a che cosa ancora possiamo andare a fare e io direi di chiudere la live si 8 e 30 o 7 e 30 perfetto allora domani mattina domani mattina metterò il nome del tuo server mandami tutte le informazioni che volevi mandarmi praticamente su discord metterò il nome del tuo server così da così da praticamente giocare insieme va bene grazie Ivan grazie anche Ivan ringrazio Ivan per il grande tutorial che mi ha fatto su minecraft ringrazio tutti voi per la live faccio i soliti 5 minuti di pausa e torno alle 7 e 30 facciamo alle 7 e 30 sicuramente ci sto perché mi alzo molto presto va bene ragazzi 5 minuti di pausa e torno con la Luca non posso avere amici nella vita nella vita non puoi avere amici dove non puoi avere amici in che senso non puoi avere amici perché non puoi avere questi amici scusa un attimo nella vita vera non puoi avere amici non ho capito questa cosa qua perché perché dici questa cosa ragazzi sapete noi che cosa possiamo fare e adesso mi sono un pochettino impuntato ah guarda che faccio ora ti faccio vedere c'è la pubblicità aspetta aspetta la pubblicità non posso avere amici i grandi amici di Lollo praticamente quali sono gli amici che volevi tu caro Lollo quali sono questi amici che volevi dice la verità andiamo praticamente a saltare questa parte qua attenzione che ti puoi fare male voglio pigliare ma vi faccio vedere che cosa vado a fare le porte avevo ah la porta l'avevo la porta l'avevo la porta di abete potremmo prendere la porta di abete e potremmo prendere la porta di abete ma mi sembra che avevo anche preso delle porte qua c'è la pubblicità aspettiamo aspettiamo guardo un pochettino come cammino con la spada in mano assurdo andiamo a fare delle cose qui dentro c'era una fornace praticamente questa fornace non c'è niente questa fornace non c'è niente e vedete avevo delle porte avevo delle porte quindi io potrei mettere praticamente delle porte qui sopra cosa stavi dicendo stavo dicendo che in realtà domani mattina ci sarò sicuramente perché mi alzo molto molto presto carissimo Ivan nel lollo ma entri dice ciao nelle serve di roblox solo guardi credo che entrerà voleva giocare voleva giocare il grande lollo pigliamo questo rame ragazzi e facciamo delle porte di rame perché ragazzi vado a fare le porte di rame vedi 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 che cosa voleva vedi che cosa voleva da queste parti qua possiamo anche fare delle altre cose interessanti quindi delle altre la botto che serve per buttarti sotto perfetto ecco qua ragazzi facciamo delle porte di rame con questo rame che in modo tale da fare praticamente della specie di corridoi vediamo che cosa altro possiamo fare con rame ragazzi perché ho del rame in eccesso vediamo un pochettino sono le cose bianche ecco qua il blocco di rame vedete posso fare questo blocco di rame da cui posso prelevare praticamente posso fare delle altre cose non posso fare proprio niente ragazzi pensate al blocco di rame no il blocco di rame non me lo fa fare vabbè ragazzi posiamoci il blocchettone di rame abbiamo messo ecco qua il rame inciso mettiamo il lungottone vedete ragazzi andiamo a vedere alle 7.30 perfetto alle 7.30 ci sarà ropito sto piazzepane sta finendo anche il pane ragazzi sta finendo anche il pane mangia 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 che ti piace il pane ecco qua perfetto una volta che hai scoperto il pane sai come si dice non mangi più le fave perfetto andiamo con la spada in mano perché ragazzi ci saranno delle situazioni un po' bruttarielle adesso metto una porta hai capito bene grazie alla porta infatti mi posso lasciare alle spalle i nemici vediamo un pochettino soprattutto quei nemici cattivi quelli là brutti praticamente quelli là che sono hanno paura praticamente sicuramente del fuoco perché che cosa stavo facendo vedete avevo il medusone il medusone ti piace il medusone ti piace il medusone quindi posso mettere questa porta qui sopra in modo tale da andare vedete un pochettino a cercare a cercare di capire il passaggio che devo fare quindi casomai posso mettere una porta praticamente di qua vedete ragazzi che poi posso andare ad aprire e chiudere ma soprattutto forse posso metterne un'altra porta praticamente qui sopra no aspettate che cosa vado a fare ho rotto una porta ho rotto una porta dove la posso mettere la porta volevo fare un passaggio quindi casomai vado a distruggere vedete ragazzi quest'altro blocchettino vado a mettere una porta praticamente di qua e vado a mettere anche una porta di qua no 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 e no volevo fare avete capito che cosa volevo fare e allora devo fare un altro tipo di azione quindi vado a togliere questa porta di rame ma lo scudo lo devi usare ho capito che lo devo usare ho capito che lo devo usare lo scudo e a questo punto però che cosa faresti tu? faresti una cosa del genere faresti credo una cosa del genere quindi andrei potrei fare una cosa una cosa così guardate guardate potrei al fine di creare forse un piano praticamente qui di difesa di difesa dei mostri praticamente perfetto i mostri che in realtà qui non possono entrare quindi farei proprio una porta qui vedete ecco qua una porta qui sopra quelli si mettono là si mettono là hai capito? in modo tale da in modo tale da mettere praticamente una porticina qui sopra in modo tale che quello non può entrare credo no? ti trovi su questo non può entrare di qua vediamo un pochettino se posso fare qualche altra cosa vediamo vediamo volevo metterla un blocchettino qui sopra vedi? perfetto in modo tale da cercare senza cadere ovviamente ecco qua ho fatto praticamente una porta quindi tu apri la porta e la chiudi che dici? ecco qua con lo scrivo che fai? l'archivement ah certo certo devo parare devo parare devo parare da questa parte qua vedete ragazzi quindi ho questa porta praticamente che mi permette poi dopo di entrare e uscire perfetto io direi io direi visto che sono mancano dieci minuti ragazzi alla live di Roblox di chiudere ovviamente questa live anche se in realtà mi stavo veramente molto molto divertendo e abbiamo ah il piccone abbiamo la redstone ragazzi abbiamo fatto il piccone di ferro fatemi pigliare solo questa cosa vedete un pochettino ma poi vedi un pochettino ecco qua vedi di qua di qua vedi che cosa è successo che cosa ho fatto praticamente di qua io di qua sono caduto io di qua sono caduto ecco qua vedi vedi ora ti faccio vedere ok perfetto vado a mettere il blocchettone quindi scenderò praticamente di qui in questa linea e quindi mi serve ovviamente adesso scendere un altro po' mettiamo il piccone di ferro ecco qua la 7.50 ma sono quasi le 7 le lavedero per le 8 non dovresti fare una pausa no non la faccio la pausa non ti preoccupare scendiamo scendiamo perché perché tu dici perché stai facendo questa cosa perché vado a pigliare la redstone ecco qua volevo volevo pigliarla volevo prenderla vedi un pochettino la redstone che cosa mi serve la redstone che cosa mi serve caro Ivan adesso Ivan ti spiega che cosa ti serve la redstone ecco qua ho preso praticamente la redstone che mi servirà per fare delle cose incredibili e un motivo fa Francesper per le vacanze che devi fare ecco qua devi fare che cosa devi fare spazio per le vacanze no capito comunque ragazzi andiamo andiamo qui sopra a picconare vedete ragazzi un succidio un succidio devi fare che devi fare questa cosa ma che devi fare vedete ragazzi stiamo andando ovviamente a scavare qui dentro ecco qua vedete e ci troviamo qui con la nostra fiaccoluna con la nostra fiaccoluna quindi abbiamo trovato la redstone ma dove dobbiamo poi dopo andare dobbiamo scendere ancora praticamente all'interno di questo incredibile un macello un suicidio praticamente ma che serve la redstone questo non ho capito cosa serve questa redstone questa pietra rossa praticamente verbi dialoghi lessi con casino assurdo e dialoghi in inglese e dialoghi in francese andiamo a vedere andiamo a vedere ragazzi andiamo ad aprire quest'altra parte qua vedete vedete andremo ad aprire quest'altra parte qua andiamo a distruggere quest'altro elemento ecco qua vedete è bello è bello è bello è bello è bello davvero ragazzi tra pochissimo la lava di roblox vabbè ci stiamo ci stiamo proprio addentrando in luoghi veramente incredibili guardate un pochino mamma mia questa è la nostra caverna e chissà dove arriveremo dove arriveremo ecco qua senti la musica senti la musica da questa parte qua che poi con l'arca in mente dove vai a parare con lo scudo a che ti serve che ti serve con l'arca in mente per dei circuiti oh guarda che so cosa mamma mia attenzione attenzione al battaglione mai sento dei rumori e che so cosa che so cosa qua sotto ma dove sono finito fermo 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 a finire a mettere fermo fermo shift che vuol dire shift che vuol dire shift che vuol dire shift ma dove sono ma dove sono arrivato e il warden che ti ammazza non fa non fare rumore e quindi di qua che devo fare quindi c'è un mostro qua sotto se lo fai spawnare e voi che ne sapete che c'è un mostro praticamente qui sotto a questa parte qua a questa parte qua io ci metto una porta scusa a questo punto ci metto una porta scusa no aspettate no premi shift premo shift voglio farmi una spada di diamante eh premo shift e poi che faccio progresso compiuto furtività 100 ha compiuto il progresso furtività 100 ma come fai a sapere tutte queste cose perché quelli sono i blocchi suoi e lui sta sempre là vabbè ragazzi allora di qua me ne devo andare praticamente se voi mi dite che me ne devo andare me ne vado me ne devo andare praticamente di qua no perché c'è un sensore ho capito ah che appena forse scendo appena scendo succede qualcosa secondo me mamma mia ragazzi che paura io mi sono messo veramente paura devo dire la verità mi sono messo veramente paura perché voi mi dite che lo fa sponnare a tipo 200 200 cuori alla faccia allora io questi mostri non li ho mai visti io questi mostri non li ho mai visti prima però però voglio praticamente fare una specie di base qua e ho capito non lo ucciderai mai guarda qui guarda qui ho capito ma nemmeno con le magie posso ucciderlo e quel tipo di mostro a che serve praticamente e poi in un colpo ti toglie tipo metà cuori allora, vabbè, quello è barare praticamente ah, per barare, per ucciderlo praticamente, perfetto vabbè ragazzi, va bene così non c'è bisogno di uccidere se non c'è una reale necessità se non c'è una reale necessità, non c'è bisogno sicuramente di uccidere è tipo golem di ferro, vabbè ragazzi, dobbiamo fare gli archiment questo è tutto praticamente questo è tutto, dobbiamo fare gli archiment altrimenti ovviamente non riusciamo del villaggio ma con più vita ah, tipo golem di ferro del villaggio praticamente con più vita addirittura alla faccia, alla faccia, non lo sapevo vi ringrazio sempre di questa, diciamo, delucidazione che andate ovviamente a esplicitare esplicitare in questa incredibile live di Minecraft perfetto, andiamoci a togliere questa parte qua così da fare un'ampia più zona illuminata va bene, del villaggio ma con più vita ragazzi, dobbiamo capire però cosa fare anche da quest'altra parte qua perché volevo recuperare volevo recuperare questi oggetti praticamente come potete vedere in modo tale da farmi una sezione praticamente più aperta ecco qua, vedete vabbè, usiamo il piccone di ferro altrimenti non ce ne usciamo più vedete ok allora, se stavo io ero già a mille blocchi di distanza e ho capito, ma tu sei esperto di Minecraft io è la prima volta che ci gioco anche se ci stava mio nonno come si dice era più bravo di me a fare determinate cose nel senso che è l'esperienza che sicuramente ti insegna a fare e anche a volte sai però, allora, a volte è anche bello scoprire hai capito? è anche bello scoprire e dici, ma sto gioco che cosa offre? che cosa mi permette di fare? per esempio, vedi qua vedi qua, guarda io dico, vorrei fare adesso vorrei aprire questa parte qua per dirti per vedere l'acqua oh oh l'acqua come si comporta no? ecco qua allora gli metto per esempio una cosa qui sopra e voglio vedere l'acqua come si comporta è anche bello scoprire capito? è anche bello scoprire e dici che cosa succederà se io faccio questo ecco qua ma io posso far scendere l'acqua praticamente lì sotto? credo di sì praticamente quindi potrei addirittura fare uno scavo potrei addirittura fare uno scavo qui sotto praticamente per fare non lo so per fare di tutto e di più, vedete? quindi il bello di Minecraft è anche questo non devo fare lo scavo non devo fare non lo fare e che cosa? non devo far scendere l'acqua giù perché non devo far scendere l'acqua giù? perché non devo far scendere l'acqua giù? qual è la problematica? quale sarebbe la problematica? ragazzi qui voglio mettere anche degli altri blocchi perché così ecco qua vediamo un pochettino abbiamo fatto una bella parità ma dai 5 minuti passano ok perfetto adesso se poi ti dico che finisce male non lo fai vabbè allora mi fido di te mi fido di te che sei un esperto allora ragazzi che dirvi sicuramente Minecraft è sicuramente un gioco veramente sensazionale un sensazionale veramente iper esplorativo iper 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 fantastico non ho sicuramente parole ragazzi però ovviamente adesso porteremo Roblox quindi porteremo Roblox oh quanta polvere di redstone e che possiamo fare? questa polvere ah la bussolona l'orologio i lingottoni la bussola con i lingotti a redstone che ci servirà sicuramente per orientarci molto molto bello devo dire la verità certo gli archiment però io credo questo che sia bello anche esplorare il gettatore praticamente il gettatore che non so a che cosa mi serve se ho gettato il blocco ok perfetto va bene signori io vado 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 sopra in superficie voglio salvare sopra come si chiama il tuo server adesso sai che cosa fai allora io sto giocando praticamente sto giocando si potrebbe dire offline però ti voglio dire una cosa visto che il nostro mitico il nostro mitico Ivan praticamente voleva voleva creare praticamente un server andremo sul server di Ivan anche se devo dirti la verità preferire una cosa mia nel senso proprio perché non ho mai giocato a Minecraft e quindi mi sono veramente molto molto divertente molto molto esplorativo va bene ragazzi qui potremmo fare forse anche di binari di una scaletta non lo so andiamocene quindi sopra e ovviamente uno dice giochere loro giochere loro ma cosa stai facendo qui sopra eccoci qua allora ma il server più l'ollo ora ha finito Minecraft l'ollo ha finito Minecraft come ha fatto a finire l'ollo Minecraft comunque ragazzi detto questo io farei praticamente vedete un pochettino un attimo questo oggettatore che non so a che cosa serve al oggettatore a che serve questo oggettatore praticamente andiamo a fare mi sono fissato col oggettatore voglio fare il oggettatore prima di andarmene praticamente e più dal oggettatore posso fare il fabbricatore ecco qua blocco sonoro pistone c'è veramente di tutto e di più il oggettatore lo voglio mettere qui sopra mettiamo il oggettatore qui e che serve questo oggettatore che fa questo oggettatore è la stessa cosa con più persone no ma intendo ti gioco che hai finito la live di minecraft si finisce adesso la live di minecraft e inizierò praticamente inizierò praticamente roblox perché ragazzi come vi avevo detto furtività 100 perfetto il mio grande progresso il progresso di mamma va bene ragazzi posiamo ovviamente tutto quello che dovevamo posare perfetto altrimenti non la facciamo non la smettiamo più la redstone la pietra russa ci servirà ovviamente in futuro qui abbiamo della ghiaia perfetto che sicuramente va messa qua del pietrisco simpatico e carino pietrisco di ardesia profonda ovviamente andesite vedete un pochettino andesite che cosa è andesite da stati qua che sicuramente ci possiamo conservare questo qua pietrisco e questo qua lo possiamo anche buttare basalto liscio sicuramente interessante e queste mitiche stallattite stallagdmitiche come si chiamano loro le porte blocco diametista che credo che sia interessante e mettiamo un'altra cosa qua sopra il granito il granito appena lo teniamo questo blocco di speleocosa ecco qua il pane che sta finendo il pane ragazzi e abbiamo anche della carne e un pollo crudo pensate un pochettino il pane vogliamo farci un'ultima mangiata facciamoci un'ultima mangiata insieme magna tutto il suo pane ecco qua perfetto e poi dopo crede la calcite la calcite non l'ho mai avuta allora ho finito ma ora lave magari laveroblox ora si allora ragazzi che dirvi io vi ringrazio sicuramente per la visione se non siete iscritti al canale giocherone sapete benissimo cosa fare ci siamo creati anche un quadretto qui sopra io faccio 5 minuti pausa e torno con roblox sofia oh la cara sofia fai così saluta sofia salita sofia ragazzi 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 allora live di roblox tra qualche minutino qualche minutino a tra poco ringrazio ragazzi il mitico ivan che mi ha fatto da guida poi con ivan vorrei far partire anche un progetto legato a minecraft grazie mille a tutti e poi ci organizziamo per la prossima live di minecraft sono sempre erminia cara erminia buongiorno a te benvenuta sul canale giocherone io faccio 5 minuti di pausa e torno con roblox quindi grazie veramente a tutti a tra pochissimo